Brava Kenia, mangi comoda, comoda, sdraiata, non sei una zebra, sei un essere umano, anche lei seduta come gli esseri umani, e se quando fa freddo freddo è meglio tenere le zampette a calduccio e mangiare comodi, comodi, sdraiati, sei stupendo, è fantastico, come zebra unica pepe nell'angolino, tutti felici e contenti che mangiano, se adesso che tutto il tuo materassino pulito nuovo, comodo, comodo, come stiamo bene, come siamo belli comodi, come siamo belli comodi, con la copertina imbottita, qui si alza più, è lì? Furba, siccome gli ho messo tutta la lettiera pulita nuova, no, finalmente, l'outrugio, altro che dire che le zebra amano gli ambienti selvatici, il paddock, amano le comodità, e lei non è un esempio, appunto perché alla fine tutti pensano che devono galoppare, correre, correre, invece sono esseri pigri che se possono preferiscono le cose comode, perché sopravvivenza che li fa galoppare ore e ore per cercare di cibo, ma quando cerca cibo, ma tu dimmi, alla fine tu ti dico, le poverine li chiusa, lei sta di un bene, di un bene qui comoda, comoda, anche tu guarda, è una meraviglia, chi glielo fa fare? io vengo in giro a cercare il cibo, a cercare coi leoni... sì, sì, sì... dai che non è maggiore bene immagina è finita finita ora bravo adesso meno male che faccia foto aspetta allora fa una fotoletta sola mentre via vicino fai così faccia foto faccia foto a il a dire che ti fermo tutto, non lo serve più male, perché non mi è scusato. Ok, quello che ho fatto è che avrei preso la pedana, ma avrei avuto fuoco, ok? E poi devi finire, andrei, andrei indietro dalla pedana, non in avanti, non mi scendo, non mi scendo, non mi scendo, perché scendo da dietro. Tardo, scendo da dietro. Senti dall'altra strada, scendo da dietro. Ok, dira, dira, dira. Bene, andrei, andrei. Tiamo fatto un direttore. Questo è il corso della esercizionale. Grazie. Ok, qui andiamo in un posto nuovo. Ok, se ti faccio il gioco. Vedi che ha capito che faccia? Ingeniello, stai lì con le mani. Guarda. E facendo veloce. Guarda, cammina un po'. Eh, se ho il tempo che usciamo. Regalmente l'altro giorno ho capito che è negli ambienti chiusi, non deve chiedere, non deve avere paura. Praticamente qui siamo in stelleria. Tranquilli, tranquilli. Bene. Adesso andiamo a vederci le stelle. Guardiamoci le stelle nuove. Guarda che bello questo. Guarda questi bambini. Vai a mangiartelo? No? Ti piace? Ciao! 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 Ok, andiamo. Adesso nella doccia. Nella doccia. l'acqua, come il fuoco, sono elementi che terrorizzano tutti gli animali. Cosa? Ok. 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 Qui c'è l'acqua alza. Ok. Allora, togliamo uno dei bordi. Fuoco e di acqua. Stai filmando? Ok. E la stella, tutto deve essere un gioco. Un gioco! Un gioco! Un gioco! Però devi riscoltare e evitare. Ok. Stop! Fai! Vieni. Chiarei che è scivoloso. Stavi cadendo prima. Andiamo. Chiarei che lo dà. Fai il resto. Poi finiamo con la pedana. E poi, andiamo a andare. E in piano piano. Tutto sempre piano degli affrontati. Mai con velocità. Perché è lo che ci fa, da andare. Adesso andiamo a fare una direzione. La pedana. Poi andiamo a trovare quel posto. E poi ce ne andiamo. Ok. Oh no. Bravo. Molto. Bravo. Davide. Non c'è l'altro. Tanto e' un gioco. E' un gioco. Non c'è l'altro. E' un gioco. E' un gioco. Che non voglio tornare a casa. Che riesce a stare fuori. Andiamo in piano. E' un gioco. E' un gioco. Forza. Dai. Sei un bel gestone. Si. Dai. Dai. Noi. Non è mai 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 mai. E' un gioco. essere convinto quando fa le cose ok ciao ciao a tutti